Le attività. Campania Percorsi dell'Anima è una rete che ti propone un ricco catalogo di servizi e di attività legate al territorio della regione Campania, grazie ad una piattaforma tecnologica innovativa. Il sito web è il punto di partenza dove puoi trovare le principali informazioni sul progetto e il catalogo dei siti di interesse, dei percorsi dell'Anima e degli eventi. L'esplorazione dei contenuti è naturale e intuitiva, grazie alle schede di approfondimento e alla mappa interattiva. Troverai inoltre tanti contenuti multimediali e strumenti dedicati alla pianificazione rapida del viaggio. L'app è il cuore innovativo di Campania Percorsi dell'Anima, un kit di viaggio potentissimo da tenere in tasca. Strumenti per la navigazione dei contenuti e della mappa, tracciamento del percorso e visure di realtà aumentata. Tutto continua a funzionare anche in assenza di connessione dati. L'app si prende cura dei contenuti per la tua sicurezza. Invia notifiche in caso di emergenza e ti mette in contatto diretto con gli operatori di sicurezza. Potrai inoltre avvertire gli altri viaggiatori di pericoli o disagi, condividendo le tue segnalazioni, sostenendo così la nostra rete di sicurezza partecipata. Campania Percorsi dell'Anima ha creato per te una guida multimediale ricca di contenuti, accessibile dal sito web e dall'app. Le schede di approfondimento sono la carta di identità di ogni tappa del tuo percorso. Oltre alle informazioni descrittive troverai tutti i dettagli, i contatti e gli orari di accesso. Le videoguide sono un assaggio di cosa ti aspetta in ogni tappa del percorso dell'anima. Segui le urme di chi racconta la sua storia attraverso videodocumentari di approfondimento e fotografie inviate da altri viaggiatori come te. Le audioguide sono un supporto discreto che accompagna la tua visita con approfondimenti sulla storia, l'arte, la cultura, le tradizioni e il folklore dei principali siti di interesse. Completa l'esperienza di un percorso dell'anima. Arricchirai la tua vita acquisendo il titolo di viaggiatore dell'anima. Il passaporto è il testimone del tuo cammino spirituale, culturale ed emozionale lungo i percorsi dell'anima in campagna. Richiedi il passaporto presso uno dei luoghi di ritiro e compilalo in ogni sua parte. Ogni destinazione visitata sarà registrata con un timbro della memoria sul tuo passaporto. Completa il passaporto con tutti i timbri, consegnalo presso uno dei luoghi di ritiro e potrai ottenere l'attestato di merito di viaggiatore dell'anima. I totem interattivi ti permettono di approfondire le informazioni sulle attività di campagna percorsi dell'anima. Potrai accedere ai contenuti informativi, esplorare il catalogo dei siti di interesse e valutare la tua prossima destinazione grazie alle videoguide e audioguide della Guida Multimediale.